un cupo pomeriggio di novembre le 17 e 30 di un cupo pomeriggio di novembre l'attiginosa nebbia rende fantasma ciò che mi circonda la luce di due fari lo stridere sinistro di frenata un tonfo un grido e poi un gran silenzio e sull'asfalto tinta come brace una reliquia giace fredda e muta Gianni Regalzi